L'Acem Ance Molise si dichiara preoccupata per la recente delibera della giunta regionale del Molise in cui viene chiesto ai creditori commerciali della regione di presentare apposita domanda entro il 29 marzo sotto pena di cancellazione del credito vantato con la previsione di transazione oscillante tra il 40% per i crediti più vecchi e l'80% per i crediti più recenti. Sulla grave questione il presidente dei costruttori Acem Ance Molise Corrado Di Niro insieme al direttore Gino Di Renzo ha incontrato l'assessore al bilancio della regione Gianluca Cefaratti. L'Associazione degli Edili, pur nella consapevolezza che si tratti di una previsione contenuta nella legge finanziaria nazionale ha invitato fortemente la regione molise a rivedere la decisione adottata sul presupposto che le imprese molisane non possono subire questa ulteriore penalizzazione in quanto già vessate da mille difficoltà territoriali. Grazie. Grazie.